A Latina Calcio a 5 manca Lucas Maina, capo cannoniere del campionato, autore di 32 gol in stagione ma nonostante l'assenza sembrerebbe essere molto pesante per la squadra di casa in verità nessuno se ne accorgerà perché sarà un concerto, un'esibizione, uno show davvero da parte della squadra di casa che con Luciano Avellino inizia il suo pomeriggio stellare con questo gol dell'1-0 realizzato da una distanza siderale una staffilata gladiatoria che si infila alle spalle dell'incolpevole portiere Di Stefano il contropiede da parte di Leonardo che prova subito a pareggiare le sorti della partita una partita che la squadra ospite giocherà in maniera molto distratta per la verità sbagliando completamente l'approccio alla gara e soprattutto non riuscendo a rimediare i numerosi errori come quello commesso in questa circostanza dal punto di vista difensivo perché Terenzi da due passi infila il gol del 2-0 ma la difesa ospite è rimasta davvero innebetita di fronte allo spunto del giocatore Pontino che è sbucato dal nulla senza praticamente essere stato controllato da nessuno il giocatore Pontino poi cerca nuovamente di ripetersi, di realizzare il gol del 3-0 ma in questo caso Di Stefano però è pronto ad opporsi contropiede a questo punto della squadra ospite che prova una fiammata d'orgoglio a reagire con questa conclusione di Baldelli poi c'è questo contropiede che viene condotto da Felicino, tiro che viene contenuto però molto bene da Corbucci poi ancora una palla persa, in questo caso è il Latina che non è sembrato essere molto attento in questa circostanza però è riuscito a non pagare dazio da questo errore, Felicino però perde questa palla da Lazzarini che trova Di Stefano sulla sua strada poi c'è questo triangolazione avvolgente che porta Rafinha a mettere il sigilo del 3-0 3-0 dunque pesantissimo per la formazione ospite che ha subito questo contropiede micidiale questa ripartenza è stata anche molto lenta però a rientrare in questa occasione poi c'è Alexis che sulla destra mette a segno il gol del 3-1 un diagonale imparabile per Luca Corbucci che è uscito disperatamente per cercare di sbarrare la strada al giocatore ospite che però ha trovato comunque il gol del 3-1 finisce il primo tempo per il Prado Rinaldo dunque c'è ancora una possibilità di recupero grazie a questo gol di Alexis ma nel secondo tempo però cambierà la musica in verità anzi sarà sempre la stessa ma molto più assordante quella accesa dalla formazione di casa che inizia esattamente come nel primo tempo con un gol immediatamente dopo neanche 30 secondi da parte di Lazzarini la contraeri della formazione pontina veramente genererà una serie di realizzazioni da tutte le parti del campo con tutte le armi possibili immaginabili con conclusioni davvero che vengono segnate a ripetizione in questo caso è Gimenez che sfrutta ancora un errore difensivo da parte di Felicino e mette dentro il gol del 5-1 chiude dunque a doppia mandata la partita per il Prado Rinaldo che si sta trasformando lentamente in un incubo questo secondo tempo la formazione ospite è rimasta con la testa con le gambe, con l'anima davvero dentro gli spogliatoi sembra forse non essere scesa in campo con la giusta concentrazione dopo queste festività il Prado Rinaldo che però ha tentato poi di realizzare quantomeno il gol del 5-2 e di contenere le dimensioni di quella che si sta per configurare come una autentica disfatta conclusione di Leonardo la palla è terminata fuori seguita con lo sguardo da Corbucci poi quest'azione sulla sinistra guardate che cavolavoro un pallonetto che non abbiamo capito bene come sia stato fatto sembra Lazzarini che ha tentato questa incursione sulla sinistra la formazione pontina che a questo punto pigia ancora di più il piede sull'acceleratore grazie ancora una volta a Lazzarini che sorprende con questa fucilata il portiere ospite mette a segno il gol del 6-1 che a questo punto davvero apre e spalanca le porte a quella che è una gran nuola di segnature perché il Prado Rinaldo ha tentato anche con la carta della disperazione l'arma del portiere libero ma non sortendo risultati favorevoli anzi peggiorando ancora di più lo stato delle cose che a questo punto davvero si parla di un'esecuzione ancora guardate Gimenez facilissimo per lui mettere a segno il gol del 7-1 un risultato che sta diventando pesantissimo per la formazione ospite che sta subendo al Pala Bianchini un'autentica lezione di calcio ma anche una grandinata di segnature gol che fioccano da tutte le parti ancora una volta è stato Avellino a realizzare il gol del 9-1 dunque abbiamo anche perso il conto delle segnature messe a segno dalla formazione di casa il Prado Rinaldo che ha disputato però un campionato fino a questo momento molto positivo ricordiamo che è anche una neopromossa in verità dunque è anche una lezione troppo severa per la formazione ospite che aveva anche vinto la gara di andata subisce ancora una rete in questo caso da parte di Avellino che fissa dunque il risultato sul 10-1 partita dunque che si conclude nel peggiore dei modi per la formazione ospite mentre per il Latina Caccia 5 continua l'inseguimento alla Loa che è riuscita a vincere la sua sfida e dunque ad avere ancora due punti di vantaggio